E per chiudere, vedete come tutto questo abbia una influenza sul processo di innovazione, perché le innovazioni di cui tutti parlano, qui la terza parola della Paola Ratton di innovazione, ma le innovazioni sono di due tipi, ci sono le innovazioni di rottura, così sono state chiamate recentemente in America, e le innovazioni di costo, ma noi delle innovazioni di costo non ci bastano, le innovazioni di costo sono quelle che abbassano i costi e per abbassare i costi sappiamo come fare, basta non pagare l'agenza e quindi meglio ancora, 5, diceva, si chiamano 5 euro per un articolo e così. E noi le innovazioni di costo non risolvono il problema di azione, noi abbiamo bisogno dell'innovazione di rottura, che sono quelle innovazioni che introducono nuovi beni e servizi, con modi nuovi, che sono quelle che effettivamente creano le nuove possibilità. Questo è alla nostra portata, perché noi italiani abbiamo la possibilità per questo, quindi non fare quel che potremmo fare è doppiamente scandaloso o peccaminoso, dipende dai punti di vista. Grazie.